Siamo nel quartiere della ricostruzione, un quartiere modello, del nuovo modello Teramo, quello del cratere sismico. Siamo in un quartiere che sta rinascendo grazie a quella che è l'ordinanza Teramo. Abbiamo i palazzi Ater che sono rimasti ovviamente senza manutenzione, ovviamente senza controllo, ovviamente senza cura. E abbiamo però una start-up, quella del B&B della ricostruzione. Guardiamo qui, abbiamo un materasso con il topper di 6 cm e ovviamente anche con quelle che sono tutte le passamerie di rito, tende in seta tunisina, turca addirittura, anzi araba. E abbiamo un frigorifero meraviglioso con il dispenser per il ghiaccio e poi ovviamente il bagno, come non avere un bagno in camera. Ecco, questa è la ricostruzione del nuovo modello Teramo, il degrado, scusate, chiama degrado, il mancato controllo, chiama quello che è un quartiere completamente abbandonato. Nonostante le tante conferenze stampa, nonostante i tanti tavoli tecnici sulla ricostruzione e su quanto siamo bravi a fare le pratiche, l'USR e quant'altro, ovviamente tutto ciò verrà mandato alla cittadella della ricostruzione che sta per arrivare, sperando che possa veramente arrivare, altrimenti l'USR prenderà tutto, impacchetterà tutto, tranne questa cosa qui che rimarrà a Teramo e porterà ovviamente insieme alla Camera di Commercio e quant'altro all'Aquila.